Poco dopo l'alba una donna è stata travolta da un'auto ed è morta lungo la provinciale che collega Campoformido a Carpeneto, era scesa da poco dalla sua macchina, la vittima è una trentotenne nigeriana. Colpo di scena nel processo per l'omicidio dei fidanzati di Pordenone, il direttore del laboratorio del RIS di Parma, depone in aula e afferma che non c'è il DNA di ruotolo, unico indagato sul bossolo trovato nell'auto della coppia. Dal 1 gennaio sparisce carne e acque, la gestione del servizio idrico passerà al Kafka e i comitati della montagna temono pesanti ripercussioni sulle bollette, risponde Gomboso del Kafka, le tariffe aumenteranno del 2%. Con il numero del settimanale il Friuling ed Icola, da oggi i lettori trovano una gustosa sorpresa, il ricettario per imbandire le tavole a Natale firmato da un noto maestro di cucina friulano, lo chef Germano Pontoni. Contro il Crotone, l'udinese insegue la tripletta, l'ultima nel settembre 2014 a quota 24, i bianconeri guaglierebbero l'andamento dell'ultima qualificazione europea della diciottesima giornata. Signore e signori buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Investimento mortale questa mattina poco dopo le 6 sulla strada provinciale che collega Campo Formido a Carpeneto, una donna nigeriana residente a Campo Formido di 38 anni, è stata investita mentre si trovava a piedi sulla strada dopo aver abbandonato a poca distanza l'auto per motivi ancora sconosciuti. Una macchina che proveniva da Carpeneto guidata da un 38enne di Pozzuolo l'ha travolta. Inutili soccorsi del personale del 118, le ferite erano troppo gravi e la donna è morta sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri del radiomobile di Udine, della stazione di Campo Formido e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale udinese. Colpo di scena questa mattina nella nona udienza del processo a carico di Giosuè Ruoto, l'unico indagato per il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza, il capitano Fabiano Gentile, direttore del laboratorio dei RIS di Parma, che si è occupato dell'analisi sui reperti acquisiti sulla scena del crimine. Infatti si è concentrato in particolare sul bossolo trovato all'interno dell'auto della coppia vicino alla leva del cambio. Sulla prova è stato isolato il profilo riconducibile a Ragone, un profilo genotipico minoritario che esclude la presenza di DNA di Ruotolo, ma anche di Protani, Renna e Romano, gli altri nomi che sono stati inizialmente iscritti sul registro degli indaganti. Un fatto importante che in qualche misura permette la difesa del militare campano, che resta l'unico imputato per l'omicidio del palazzetto dello sport di Pordenone, di segnare un punto a suo favore in attesa delle prossime testimonianze. Ma sentiamo il commento dell'avvocato difensore di Giosuè Ruotolo, Giuseppe Esposito. L'elemento che è venuto già fuori in corso dell'attività di Dagi, adesso finalmente è stato confermato in sede di battimentale, è che è in un bossolo trovato all'interno della vettura dei due ragazzi deceduti, c'è un profilo genotipico appartenente a una delle vittime, ce n'è un altro minoritario, ma comunque utilizzabile per un confronto e questo profilo genotipico minoritario non appartiene a Ruotolo, Giosuè. E' stato promosso tra le polemiche Ezio Zernar, il poliziotto condannato per aver allestito prove contro Elvo Zornitta, l'ingegnere di Pordenone, indagato e assolto nell'inchiesta di una bomber. Zernar ai tempi dirigeva il laboratorio per le indagini criminalistiche della Procura di Venezia e dopo la condanna a due anni per la manipolazione del famoso Lamierino che avrebbe dovuto incastrare, l'unico indagato era stato trasferito alla Polstrada di Padova. Adesso la promozione da ispettore a vice sovrintendente, una decisione che ha sollevato le amare proteste di Zornitta. La guardia rifinanza, posto sotto sequestro un centro massaggi a luci rosse a Pradamano, il titolare, un cittadino cinese, è stato denunciato per sfruttamento della prostituzione. Le fiamme gialle hanno sequestrato anche 1.500 euro provento delle prestazioni effettuate nelle ore precedenti l'operazione. Nel passaparola tra la clientela abituale, le ragazze che si prostituivano erano indicate con nomi di fantasia, capaci di descriverne in maniera molto esplicita le doti, così da accrescere il volume d'affari. Proprio il continuo ed anomalo andirivieni di clienti, tutti uomini, in quello che dall'esterno poteva sembrare un qualunque centro estetico, ingentilito da raffinati motivi orientali, ha spinto i finanzieri del comando provinciale di Udine ad indagare sulla reale attività svolta in un centro massaggi di Pradamano, che al termine delle indagini è stato posto sotto sequestro, con contestuale denuncia per sfruttamento della prostituzione del titolare, un cittadino cinese di 52 anni, residente a Milano. Le Fiamme Gialle hanno interpellato direttamente i clienti all'uscita del centro, dimostrando che erano ben consapevoli dell'effettiva tipologia del locale, dove si recavano appositamente per fruire delle prestazioni sessuali rese dalle ragazze, pure loro cinesi, e prive di certificazioni o abilitazioni all'esercizio della professione fisioterapica. Gli elementi raccolti dalle Fiamme Gialle hanno accertato che almeno due delle lavoratrici si prostituivano. Durante la perquisizione dei locali sono stati sequestrati documenti e 1.500 euro in contanti, provento delle prestazioni rese nelle ore precedenti l'operazione. Ora inizia la seconda fase dell'attività della Guardia di Finanza, che dovrà ricostruire il giro d'affari e verificare se vi siano stati introiti nascosti al fisco. Poniamo particolare attenzione, spiega il colonnello Sergio Schena, comandante provinciale di Udine della Guardia di Finanza, alle attività che sorgono sul territorio in maniera estemporanea, anche a tutela degli esercenti che operano nella legalità. Contiamo anche sulla collaborazione dei cittadini, conclude, che invitiamo a segnalarci eventuali situazioni sospette. I negozi di Borgo Teresiano, la piccola Chinatown di Trieste, sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza. In una rettata i militari hanno sequestrato luminari, adobbi natalizi e giocattoli non a norma, oltre a sigarette di contrabbando. Scoperti anche due lavoratori in nero. Maxi sequestro delle fiamme gialle di Trieste nei negozi cinesi di Borgo Teresiano, la Chinatown Giuliana. La Guardia di Finanza, sul posto con 40 uomini e oltre 10 pattuglie, alle prime luci dell'alba ha perquisito simultaneamente 11 negozi e l'area portuale, con controlli approfonditi su diversi container provenienti via nave dalla Cina. I finanzieri hanno trovato luminarie non a norma, che possono essere fonte di incendi domestici. Esposti in bella mostra sugli scaffali c'erano anche statuine di personaggi del presepe, palline, addobbi a forma di pupazze di neve, stelle e giocattoli senza il marchio certificato CE. In un punto vendita i militari hanno sequestrato anche 103 pacchetti di sigarette di contrabbando, con il sigillo di stato sloveno. Il titolare, di origine cinese, rischia una sanzione fino a 50.000 euro. L'attività delle fiamme gialle ha consentito l'individuazione di due lavoratori in nero impiegati in uno dei bazar. I titolari dei negozi ispezionati saranno segnalati anche alla Camera di Commercio per le violazioni previste dal Codice del Consumo, per le quali sono previste sanzioni fino a 25.000 euro. Il personale del commissariato di Tolmezzo, assieme alla Polizia di Frontiera di Fiumicino, è arrestato mandata a Radovan, 58enne cittadino cieco, grazie a un mandato di estradizione della Germania. L'ordine d'arresto europeo era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Udine in base alla sentenza di condanna del Tribunale di Tolmezzo del 5 febbraio 2009. L'uomo deve scontare un anno di reclusione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Era stato scoperto mentre accompagnava in Italia due ucraini con documenti falsi. E una ciclista è stata investita da un'auto questa mattina, poco prima delle 12, in largo ospedale vecchio a Udine. La signora in sella alla sua bici è stata travolta da una Opel che stava entrando nella zona del parcheggio del Tribunale di Via Crispi. La donna è stata soccorsa dal 118, vedete proprio le immagini scattate sul posto, fortunatamente ha riportato solo lievi e ferite. Un gruppo di hacker islamici hanno attaccato e preso il controllo del sito internet di un ristorante friulano. Sulle pagine web sono comparsi messaggi e immagini raccapriccianti. Una macabra sorpresa attende a chi cerca di connettersi al sito del Mem Restaurant di Pavia di Udine. Da un paio di settimane, infatti, lo spazio web del locale friulano è stato occupato da un gruppo di hacker islamici, il Tunisian Cyber Resistance Al-Fallaga, che ha sostituito i contenuti con immagini raccapriccianti e messaggi che neggiano la fede islamica. Gli hacker chiedono di fermare le morti e le atrocità subite dai musulmani in Birmania a opera dei buddhisti. Ad accorgersene sono stati i clienti del locale che hanno avvertito il titolare, Paolo Dose, che non riesce più a entrare nel proprio spazio internet. Mi sono subito rivolto alla Digos, dice Dose, e alla società di Hosting che ospita il mio sito, chiedendo di ripristinare quanto prima i miei contenuti. Tuttavia, il ripristino non sembra essere cosa facile dal momento che ci sono alcuni passaggi burocratici da compiere, come l'invio della denuncia fatta all'autorità. Tra oggi e domani, continuo il ristoratore, contatterò nuovamente la società per chiedere almeno l'oscuramento. Per me si tratta di un danno di non poco conto, anche se per ora l'account Facebook riesce a superire. L'importante è riprendere il controllo e non perdere i contenuti per non ripartire da zero. Ma come l'hanno preso i clienti? Al momento, conclude Dose, i più affezionati ci stanno scherzando sopra e nessuno si è lamentato. Hanno capito che ciò che è accaduto non è di peso da me. Questo non è il primo episodio accaduto in Friuli Venezia Giulia. Nel 2014, infatti, qualcosa di simile era successo al sito dell'emittente Tristina Radio.0 e all'istituto scolastico Zanussi di Pordenone. In quest'ultimo caso, la scuola era stata presa di mira, probabilmente perché l'acronimo di Istituto Statale di Istruzione Superiore è ISIS, lo stesso del calitato islamico. Dal 1 gennaio carne e acque cesserà di esistere e la gestione del servizio idrico nei comuni dell'Alto Friuli passerà al CAFQ. I comitati di difesa territoriale della montagna scendono nuovamente in campo contro la fusione. Si temono aumenti alle bollette. Adesso nuovamente la fusione con il CAFQ ci viene presentata come un qualche cosa di strategico. La precedente scelta strategica ha avuto degli esiti catastrofici. Non si vede come questa nuova scelta strategica possa migliorare la situazione, visto che la gestione si allontana sempre di più e conseguentemente anche la considerazione per la realtà sociale montana da parte di un'entità, di una società che gestisce la risorsa idrica su un territorio molto vasto, è chiaro che diventerà meno, tant'è che c'è stato confermato via stampa che le tariffe saranno unificate. Quindi ormai noi che produciamo l'acqua, che abbiamo localmente delle opere acquedottistiche che sono molto semplici, c'è l'opera di presa, c'è la tubazione, c'è il rubinetto, non c'è niente da pompare, non c'è nessuna infrastruttura con cui sollevare l'acqua per fargli fare salte di quota, non ci sono costi. Allora in un posto dove non ci sono costi per aprire il rubinetto e farne uscire l'acqua non si capisce perché le tariffe dovrebbero essere parificate a quelle di grosse infrastrutture come l'acquedotto di Poiana, che sono delle vere e proprie macchine tecnologiche con le quali si ottiene l'acqua nelle città. Non è il CAF che decide le tariffe, ma la regione di concerto con l'autority e il commento del presidente del CAF Edi Gomboso che dimarca comunque la volontà di ricercare una diversificazione tra pianura e comuni montani. Con il prossimo anno sono in arrivo aumenti del 2% delle bollette dell'acqua. I comitati sono rimasti da soli, alla fine non cambia niente. Lo afferma il presidente del CAF Edi Gomboso e aggiunge, il problema è che non hanno capito che CAF è una struttura pubblica gestita dai comuni con una proprietà pubblica. È il massimo dell'espressione democratica con un azionariato pubblico diffuso dove non ci sono gruppi di enti locali che fanno cartello e che condizionano i comuni piccoli e quelli montani. La politica è di avere una tariffa unica sul territorio dell'intero gestore e già dal prossimo anno gli importi saranno aumentati del 2% e non del 25% come accaduto negli ultimi anni a Udine. Non è vero, continua Gomboso, che abbiamo promesso di mantenere un sistema tariffario diversificato per la montagna perché non è nelle nostre competenze. Chi decide è la regione di concerto con l'autority. Negli accordi sottoscritti da CAF con i comuni c'è un documento in cui ci impegniamo a ricercare una diversificazione del sistema tariffario, ma la decisione finale non spetta a noi. Gomboso ribadisce che CAF raccoglie la sfida di migliorare un servizio in montagna. Negli incontri con i sindaci e con la regione, continua, siamo andati a considerare di lasciare le gestioni del servizio idrico o totalmente in carico ai comuni, lasciando la libertà agli stessi comuni di decidere di tenere la gestione delle sorgenti, delegando al gestore il servizio di fognatura o di depurazione. Gli enti locali possono anche decidere di assegnare tutto il servizio idrico al gestore. Per quanto riguarda gli addetti di carne e acque, Gomboso informa ad aver sottoscritto un documento per mantenere una struttura operativa a Tolmezzo e una a Tarvisio. Dei 47 dipendenti, 11, che all'inizio dovevano essere 15 e che sono figure dei settori di progettazione e amministrazione, saranno trasferiti nell'ufficio di Udine. L'ultimo atto per il passaggio di carni e acque al CAFG è previsto per il 27 dicembre con la firma dal notaio Pannella. Stop alla legge di soppressione delle province e revisione della riforma delle autonomie locali, ripartendo da un testo condiviso. Questa è la posizione del Consiglio provinciale di Udine che ha approvato con la maggioranza di voti 19 favorevoli e 7 contrari, un ordine del giorno in cui si chiede al Presidente di attivare ogni iniziativa utile a consentire una corretta e funzionale attuazione della nostra Carta Costituzionale. Nella sostanza si chiede alla Regione di tornare sui suoi passi rispetto all'abolizione delle province. Pietro Fontanini ha informato nel Consiglio dell'incontro a Trieste con il Commissario di Governo Anna Paola Porzio, poi analizzando la variazione di bilancio ratificata dal Consiglio con 16 favorevoli e 6 astenuti, Fontanini ha annunciato che ha anche l'intenzione di presentare una segnalazione alla Corte dei Conti. La Regione ci sta privando di pezzi importanti del nostro patrimonio, 400 milioni di euro di valore complessivo, che rappresenta la nostra garanzia sui mutui. Negli ultimi anni Finest, Società finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese, ha identificato alcuni Paesi che hanno registrato uno sviluppo veloce. Se ne è parlato nei giorni scorsi a Udine. Non siamo una banca, diventiamo soci delle aziende che internazionalizzano, condividendone il rischio di imprese e mettendoci i capitali quando servono. Mauro Del Savio, Presidente di Finest, riassume così il ruolo della Società finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese del Nord-Est operativa in 44 Paesi. L'occasione per fare il punto sull'attività è stata offerta in questi giorni dalla tappa friulana del Roadshow Italia per le imprese, promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e organizzato da Licio in collaborazione con Confindustria Udine per far conoscere gli strumenti a disposizione degli imprenditori che intendono aprirsi ai mercati esteri. Noi siamo da 25 anni attenti allo sviluppo delle imprese del territorio e le accompagniamo nello sviluppare le proprie attività in 44 Paesi dell'Europa, chiamiamola così, orientale, dalla Russia fino ai Balcani, scendendo giù fino al mare Mediterraneo. Dunque, grande esperienza. Entriamo nel capitale delle imprese, siamo solidi, siamo veloci, pronti, non abbiamo burocrazia, abbiamo soprattutto una grande competenza di conoscere gli nostri Paesi dove accompagniamo le imprese e li aiutiamo a sviluppare il proprio business. Entriamo nel capitale delle imprese all'estero, diventiamo soci, condividiamo il rischio imprenditoriale, è una cosa fondamentale questo, non siamo una banca, siamo un'azienda che offre servizi e soprattutto anche i capitali quando servono. Abbiamo selezionato i Paesi dove ci sono le opportunità specifiche di Paesi, incontro e disegnare su una cartina geografica e poi andare a esaminare quali hanno la potenzialità per poter accogliere le imprese. Noi abbiamo identificato, soprattutto negli ultimi anni, i Paesi tipo la Turchia, tipo la Russia, tipo Croazia, cioè Paesi bananti sia dal mare Mediterraneo ma che hanno dimostrato uno sviluppo molto più veloce rispetto ad altri. Questa mattina la caserma Forgianini di Tauriano si svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice della 132esima Brigata Corazzata Riete, presieduta dal comandante della divisione Friuli generale Carlo Lamanna. Al generale Antonello Vespaziani, 58esimo comandante della Grande Unità, è subentrato il parigrado Angelo Michele Ristuccia, prevente dal comando Forze Operative Nord di Padova dell'esercito italiano. Vespaziani, che andrà ora a ricoprire un importante incarico presso lo Stato Maggiore della Difesa a Roma, ha lasciato Pordenone dopo 15 mesi di intenso e proficuo comando. Da questo edificio nel dicembre del 1916 Giuseppe Ungaretti fece uscire la prima edizione del Il Porto Sepolto, canto di dolore e di speranza dell'umanità straziata dalla guerra. Così recita il testo inciso sulla targa scoperto ufficialmente oggi all'esterno della sede dello stabilimento tipografico friulano in via di Prampero 13 a Udini in occasione del centenario della prima pubblicazione del Il Porto Sepolto di Ungaretti. Questa pubblicazione scrive alla nostra città nella storia della poesia mondiale, ha detto il sindaco Onsel. Ringrazio l'assessore Federico Pirone, l'associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia, in modo particolare il professor Umberto Sereni che per primo lanciò l'idea di questa iniziativa alcuni anni fa. E' tornata sul muro del centro studio di fronte all'ex fiera di Pordenone la poesia murales Cosmo Saturo, scritta dal dicembre 79 dalla poetessa pordenonese Ludovica Cantarutti. Il tempo aveva cancellato i versi che hanno attirato l'attenzione di generazioni di studenti e cittadini. Il Comune ha così deciso di riportarla all'antico splendore, a togliere il velo alla poesia murales. Sono stati questa mattina il sindaco Ciriani e la stessa Cantarutti comprensibilmente emozionata. Sollecitati da sei di Pordenone 6, in particolare da Carla Vettorello, ha spiegato Ciriani, abbiamo voluto restituire un pezzo d'arte e storia rimasta nel cuore di generazioni di pordenonesi. Oggi i lettori del settimanale Il Friuli hanno trovato una gustosa sorpresa, un ricettario firmato da un noto maestro di cucina friulano. Nel numero in odicola da oggi, il settimanale Il Friuli regala ai propri lettori un utilissimo ricettario con i suggerimenti di Germano Pontoni, maestro di cucina friulano, con un lungo curriculum oltre che di docente nel settore della ristorazione, anche quale autore di numerosi libri. Si tratta di consigli, con immagini dettagliate, per realizzare a casa piatti semplici e pratici da proporre, perché no, ad amici e parenti durante gli appuntamenti a tavola in occasione delle imminenti festività natalizie. Ecco così ricette con carni bianche, formaggi, ortaggi di stagione, con pesce dell'Adriatico, con i cereali della tradizione, con uova, senza dimenticare la frutta, anche in versione salata e ovviamente i dolci. E allora buon appetito! Domani alle 20.30 nel Teatro del Cecco di Codroipo ci sarà il primo galà di Danza, Danza con il cuore. L'intero ricavato della serata tra biglietti d'ingresso e donazioni volontarie andrà ad una famiglia della zona, i cui due figli sono entrambi affetti da distrofia muscolare generalizzata. Servono 30.000 euro per donare alla famiglia un ascensore per permettere ai bambini di raggiungere le proprie camere. La serata è organizzata dalla scuola di danza Just Dance di Codroipo con il patrocinio del Comune. E adesso siamo pronti come di consueto con la vignetta firmata dal nostro Fernando Venturini. Potrebbe davvero essere la partita della svolta, quella dell'Udinese contro il Crotone domenica al Friuli. Dal settembre 2014 i bianconeri non centrano la tripletta e anche solo con una vittoria nelle prossime due gare si raggiungerebbe quota 24. Gli stessi punti alla diciattesima giornata dell'anno dell'ultima qualificazione europea. Napoli, Lazio e Parma precedute da un pareggio contro la Juventus e da una vittoria all'esordio contro l'Empoli. Fu un avvio bruciante quello dell'Udinese targata Stramaccioni con la tripletta. In diverso modo poi fu bruciante anche al seguito del campionato, ma quel dato resta storico perché dal settembre 2014 l'Udinese non ha mai più centrato tre vittorie consecutive. Potrebbe provarci ora contro il Crotone cercando di superare quella prova di motorità più volte fallita. Lo scorso anno di questi tempi i bianconeri di Colantuono battevano sempre Atalanta a salvo poi cadere a inizio gennaio contro il Carpi in trasferta e di esempi da non imitare ce ne sarebbero ancora. Per tanti motivi insomma la partita di domenica potrebbe essere davvero quella della svolta visto che la salvezza, ci pretenono gli scaramantici, non sembra essere certo in discussione. In un campionato fatto di sali, scendi, colpi di scena e tanta mediocrità contro Crotone e Sampe due risultati utili farebbero la differenza. Anche solo con una vittoria l'Udinese raggiungerebbe quota 24, stesso punteggio alla diciottesima giornata nell'anno dell'ultima Europa. Con 4 o 6 punti la quota sarebbe addirittura superata. Nessun volo pindarico ci mancherebbe ma questa squadra ha forse bisogno di obiettivi ricordando che dallo Stink al Mousse del Neri è passato a un altro motto. La calma intesa in un senso di calma piatta non è va per noi. Diciamo che in quel senso di Stink al Mousse, per se che savi di si fuori, insomma quello è un altro passaggio importante. Sono stati resi noti dalla Lega Calcio gli anticipi e posticipi per i mesi di gennaio e febbraio che coinvolgono appunto l'Udinese. Il nuovo anno inizierà all'ora di pranzo per i bianconeri dal momento che la partita casalinga contro l'Inter è stata anticipata alle 12 e 30 di domenica 8 gennaio 2017 ovviamente. Poi per tutto il mese si giocherà sempre di domenica alle 15. L'altro spostamento in programma per i bianconeri è l'anticipo a sabato 11 febbraio alle 20 e 45 e la trasferta contro la Fiorentina. L'anticipo della diciannovesima giornata di B mette di fronte due vecchie conoscenze dei tifosi friulani. Alessandro Calori, neotecnico del Trapani e Pasquale Marino da giugno sulla panchina del Frosinone. Con Calori i siciliani sono alla caccia di punti, di salvezza e di una difficile risalita in classifica. Sono ultimi a 12 punti, meno 5 sulla penultima a Vellino. Il Frosinone di Marino invece cerca di recuperare terreno dopo lo stop casalingo con la Salernitana. La vetta è occupata dal Verona e ha due punti. L'appuntamento è per questa sera alle 20 e 30 al provinciale di Trapani. Bene, abbiamo terminato il nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento in prima serata con la trasmissione condotta da Walter Tomada, fuoriclasse dedicata al mondo della scuola. Quindi un appuntamento al quale assolutamente non mancare. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi e buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti.